ciao ben tornata selvaggia allora senti io comincerei sicuramente dal green pass no cioè questo green pass obbligatorio sembrava una grande trovata sembrava l'arma a fine di mondo però insomma sembra un po che che il governo rischi di incartarsi secondo te draghi ha tirato troppo la corda allora secondo me ha preso una decisione che è sacrosanta in molti sono spaventati perché dicono siamo l'unico paese in cui il green pass è obbligatorio sul posto di lavoro io dico per una volta in cui non siamo il fanalino di coda o mezzi e mezzi ambigui opachi eccetera ma per una volta siamo gli apripista di quella che è secondo me un'iniziativa sacrosanta perché non dobbiamo rallegrarci di questo ma averne paura francamente io penso che a parte l'utilità che rischia di esplodere il mondo del lavoro è che rischia di capito però insomma questo si deciderà si vedrà di voglio dire si vedrà però voglio dire a un certo punto è una decisione importante di carattere tra l'altro voglio dire a un certo punto io credo che sia modo un segnale che lancia una certa politica che per troppo tempo ha ammiccato tutto il mondo no vax no pass eccetera anche recentemente allora però a questo punto si pone la questione dei tamponi gratuiti o a pagamento tu personalmente sei a favore dei tamponi gratuiti per trovare una mediazione no io non sono assolutamente a favore io non voglio pagare i tamponi alle persone che non vogliono vaccinarsi con le mie tasse e sottolineo le mie tasse perché perché i tamponi sostanzialmente allora noi abbiamo una una sanità che è pubblica ed è gratuita adesso voglio dire a un certo punto lo stato assolve al suo compito mettendo a disposizione il vaccino gratuitamente no il vaccino gratis vuoi te lo fai perché noi dobbiamo pagare una scelta che per carità in questo momento è legittima ma che a noi costa e non costa solo in termini di quanto costa il tampone tutto quello che c'è dietro ci costa tantissimo penso che io non è l'equivalente diciamoci perché sembra sempre quando parliamo di tamponi green pass con i tamponi e green pass perché si è vaccinato sembra sempre che siano due misure equivalenti ma non è così perché il tampone ci costa tantissimo cioè le conseguenze della scelta del tampone di farsi il tampone non vaccinato sono tantissime cioè loro si ammalano si ammalano di più diffondono di più il virus quindi questo rallenta l'eventuale raggiungimento dell'immunità di gregge entrano gli ospedali ammalati rischiano di contagiare altre persone all'interno degli ospedali perché qui sembra che il contagio all'interno degli ospedali pensa che io ho lanciato una provocazione qualche settimana fa che bisogna far pagare i tamponi addirittura di più e con il di più mettere una tassa per finanziare la sanità pubblica mi sembrava diciamo una posizione forte sai che sto iniziando a pensare che però quando vedi questi operai che guadagnano 1200 1300 euro al mese che hanno paura del vaccino e dicono ma il vaccino non è obbligatorio e io inizia a mi si inizia un po incrinare la mia sicurezza tu sei sicuro che sia una questione di paura io leggo e vedo moltissima aggressività che non è necessariamente si era bella abbiamo raccontato stasera ed è un'aggressività è un'aggressività una persona che ha paura si siede anche sul al tavolo delle trattative e ne parla ma ne parla con altri toni a me quella sembra un'altra cosa la declinazione di qualcos'altro poi insomma anche questa cosa tu dici calmierare ora sento sempre questo verbo pacificare calmierare siamo diventati un mondo di diplomatici no e ho sentito anche grillo dire dobbiamo mettiamo un miliardo addirittura tamponi gratis oggi conte ha scritto su facebook calmeriamo veniamo incontro certo punto io dico ok tutto il mondo dei 5 stelle reddito di cittadinanza io sono assolutamente favorevole però l'assistenzialismo pure sull'ignoranza no cioè perché per favore no cioè lì se li pagassero e che li dobbiamo pagare noi è una cosa improponibile senti abbiamo fatto un racconto a tinte forti della piazza di roma sono stati menati il nostro filmmaker la nostra giornista sala giudice abbiamo mostrato il sangue sulla telecamera insomma bel taglio in testa insomma colpo di badile al nostro filmmaker un gran brutto clima clima però si gridava in piazza gridavano anche le persone che non erano violente basta con la dittatura sanitaria no ecco cos'è la dittatura sanitaria cos'è diventata questa frase secondo te ma è un qualche mantra che ripetano senza ripetono senza sapere neanche cosa significhi francamente io mi sento vittima di una dittatura sanitaria cioè alla fine noi cosa chiediamo lo stato cosa chiede a queste persone sostanzialmente di fornirsi di un requisito per accedere a tutta una serie di servizi di attività anche a lavoro in questo momento loro cosa ci chiedono di pagare tutta una serie di conseguenze importanti rispetto la vittima della dittatura sanitaria loro sono io perché continuano a contribuire a far circolare il virus più di quanto facciamo noi certo siamo noi che rischiamo ci costano le loro ospedalizzazioni perché sono loro ospedalizzazioni perché finiscono quasi la maggior parte dei casi loro all'ospedale e in terapia intensiva costano a noi quindi francamente io mi sento vittima della dittatura sanitaria loro e poi ti dico una cosa tu parli di piazza pacifica non erano tutti i fascisti di forza nuova dentro quella piazza erano arrabbiati chi faceva gli applausi ai fascisti di forza nuova perché io ho guardato e riguardato quelle immagini perché a un certo punto si è parlato molto di questa piazza di questa manifestazione così composita in cui c'erano anche innocue mamme con i bambini le carrozzine vecchietti eccetera però io guardate le immagini quella piazza è vero che sul palco hanno sfilato i castellino i franzoni eccetera però ad applaudire sotto e a gridare giuliano giuliano nicola nicola c'erano i vecchietti pensionati le signore con la borsetta c'erano le famiglie c'erano i padri con i bambini quindi io dico c'è un conto certo c'è una parte che è andata voglio dire a capire perché allora a un certo punto questo perché c'è comunque un adesione un adesione rispetto quel linguaggio cioè tu puoi anche essere pacifico quanto vuoi ma se uno sale sul palco e dice andiamo aggrediamo ma ci sono una cosa incredibile applauso quello quello che avviene in quella piazza in effetti è la diffusione di palle incredibili no cioè di fake news allucinanti l'hai nominato prima nicola franzoni no allora ti faccio vedere una clip era sul palco con castellino sì in turchia nascono i bambini malformati dai genitori immaginati sono dei delicolti Alla fine di questa manifestazione seguite Giuliano, la parola a mio fratello. Giuliano sarebbe Giuliano Castellino, poi arrestato per l'assedio della CGL e l'occupazione. Chi è questo Franzoni? Che personaggio è? Un personaggio stranamente sottovalutato dalle cronache. In realtà è un altro di quei personaggi che non potevano essere lì quel giorno a Roma perché lui ha un foglio di via e non poteva stare a Roma. Lui se l'è guadagnato perché durante la prima fase del lockdown andò a urinare davanti a Palazzo Chigi. Questo è il personaggio. Ha annunciato per giorni la sua presenza a Roma, con tutto che, ripeto, la dico se è informata, ha un foglio di via. Ha detto che sarebbe andato a Roma, che se ne sarebbe fregato di compiere un illecito, eccetera. Come Castellino, tra l'altro. Come Castellino, però lui l'ha fatto in maniera più rocambolesca perché lui vive in Toscana. E su Telegram ha realizzato questo video in cui racconta tutto il viaggio che ha compiuto, come l'ha compiuto. Lui chiama Castellino e gli dice organizzami il viaggio a Roma. Castellino non ti preoccupare, amico mio, ci penso io. Questo prende, arriva a Roma, Castellino gli fa trovare un furgone, c'è un esponente forza nuova che l'aiuta in questo spostamento. Lui sale sul furgone, se ne va alla Dispoli in un posto in cui chiaramente lo nascondono finché non lo portano direttamente sulla piazza. Lui dice alla piazza, tanto lui dice, io ho contattato il mio avvocato e il mio avvocato mi ha detto, se tu arrivi in piazza e sali sul palco nessuno ti farà più scena. Che è quello che ha detto Rala Morgese. È una questione di ordine pubblico. È una questione di ordine pubblico, che fa scatenare i casini. Poi c'è un altro, che è quel quasi omonimo di Castellino, che si chiama invece Luca Castellini. Anche lui è esponente di Forza Nuova, ma a Verona. Eccolo qua, questo Luca Castellini. Che cosa sappiamo di lui, un altro dei personaggi chiave di Forza Nuova? Vabbè, lui è uno che credo che batta tutti i record a livello di limitazioni. Lui ha due d'aspa addirittura. Uno è la questura e uno è direttamente societario, si dice. Cioè, l'Ellas Verona non lo vuole dentro lo stato. Perché lui è nella curva nazi, praticamente. Era nella curva nazi, eccetera. Ma la cosa che a me ha incuriosito di più di questa vicenda di Castellini, che è in questo momento indagato per istigazione alla violenza, per dei post che ha scritto su vari canali, è che lui, l'ho letto sull'Arena di Verona, lui è in questo momento difeso da un avvocato, che è anche consigliere comunale e commissario della sicurezza. Ed è, io non so se tu lo ricordi, Andrea Bacciga. Il quale è famoso per aver fatto il saluto romano in aula, poi aveva portato nella biblioteca comunale dei libri scritti da, insomma, sul pensiero nazista, eccetera. Li aveva donati. E lui è l'avvocato di Castellini. Questo ti fa pensare che la politica, proprio, diciamo, le distanze... Come dicono i francesi, tout se tient. Tout se tient, in qualche maniera. Poi c'è una nuova star della televisione che è Nunzia Schilirot, vicequestore di polizia. Lei non c'è andata la manifestazione, perché, dice, io aveva capito la mala parola, insomma, sempre poliziotta è, quindi aveva capito, insomma, che la piazza non era tranquilla. Non era pacifica. Lei è stata sospesa. Ti pare una decisione giusta? Lei si appella alla libertà di manifestazione del pensiero. Una questione seria, e tra l'altro ci sono migliaia di poliziotti non vaccinati. Esatto. Nelle forze, appunto, di polizia italiane. E come la mettiamo? Vabbè, allora, lei è stata sospesa perché ritiene che il Green Pass sia illegittimo nel momento stesso in cui poi deve far rispettare la legge su questa questione, anche su questa questione. Mi sembra che, insomma, sia un po' conflittuale la questione per cui era, credo, inevitabile. Però, ecco, riguardo il fatto che ci siano tanti poliziotti non vaccinati, quello che è successo nel suo caso è molto indicativo della posizione di buona parte, di parte della polizia, perché il sindacato dei poliziotti le ha dato la carica di dirigente nazionale delle pari opportunità. E questo è uno scamotage per permetterle di continuare a salire. No, per continuare a salire sul palco alle manifestazioni politiche. Quindi lei sostanzialmente è la rappresentante di minoranza dei Novax dentro la polizia. Eh certo. Però con lo stipendio dimezzato. Dimezzato. Eh, ho capito, ma insomma, voglio dire, in qualche modo doveva pur scontare. Ma i poliziotti sono 20.000 non vaccinati. Cioè, ci sono città come Firenze in cui il 39% dei poliziotti non è vaccinato. Quindi è una realtà, insomma, che non è traspurabile, direi, no? Senti, l'ultimo personaggio di questa sfilata non era la manifestazione, è un'altra donna, un'altra ragazza, bella tosta, si chiama Silvia. È una studentessa di Bologna. La vediamo, la fotografia di Silvia. Che cosa fa Silvia? Lei va a una lezione universitaria, non ha il Green Pass. Quando le dicono di lasciare l'aula non lascia l'aula, si rifiuta perché lei è no Green Pass e blocca la lezione. Praticamente per cui succede che poi all'uscita viene infamata dagli altri studenti. Ecco, non sei un po' preoccupata che però anche, diciamo, l'aggressività dei SIVAX in qualche maniera verso chi dissente possa diventare un problema? Beh, qui non è che dissentire. E qui impedire il normale svolgimento delle lezioni, scusami. Cioè, lei non è che si è messa fuori dall'università con il suo microfono, ha fatto il discorso che leggeva, tra l'altro, dal telefonino. La battaglia politica si fa occupando, interrompendo. Ho capito, però tu occupi, interrompi, ma questi poveracci sono stati un anno lontani dall'università. Perdonami, ma mettiamoci anche nei panni dei ragazzi che tornano all'università dove sono stati i più penalizzati in assoluto. Sono quelli che sono tornati in presenza per ultimi. Cioè, mentre gli altri, in qualche modo anche alternati, sono tornati, gli universitari proprio sono stati i più sfigati di tutti. Tornano finalmente all'università, possono frequentare e hanno non lo schizzato che arriva da fuori, il pazzo, ma una delle ragazze che con loro frequenta il corso che li costringe a tornare a casa, a pagarsi il treno. Cioè, per quello che mi riguarda, per mettermi la battuta, sembra diventato l'Italia's Got Talent del Green Pass. Cioè, c'è il cantante no pass, c'è il magistrato no pass. Lo psicoterapeuta. Lo psicoterapeuta, il politico, il giornalista, mancava solo... Secondo me ci faranno un talent, veramente, no? Arriva la studentessa... Faranno l'isola dei Novax, secondo me, a un certo punto. Perché ognuno ha i suoi 4, 5, 10 minuti di gloria. Tra l'altro, a lei la gloria è piaciuta talmente tanto che oggi è tornata all'università. Non so se lo sai, ma oggi è tornata all'università. Ci ha riprovato. Ci ha riprovato. Ci ha riprovato e hanno chiamato i carabinieri questa volta. Non la polizia perché ci sono troppi i Novax. Sta diventando la Gabriele Paolini del Green Pass, sostanzialmente. Lei arriva. Grazie a Selvaggio Alucanelli per essere stata con noi. Grazie.